Gomorra, Alla luce del sole, I cento passi, Forta Pasch, sono i film che verranno proiettati dal 21 novembre al 14 dicembre nelle scuole, nell'ambito dell'iniziativa La mafia è cosa nostra, giovani in lotta per la legalità, promossa dall'Osservatorio regionale sul fenomeno dell'usura e dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale del Piemonte, che si incarica di affrontare un'ampia riflessione su una delle tematiche più scottanti del nostro paese, sotto i riflettori giovani, vittime e oppositori delle mafie. I giovani sono assolutamente al centro di questa iniziativa che prevede la proiezione di quattro film commentati da personalità illustri che in prima linea combattono la mafia e poi una grande mattinata al Teatro Alfieri in cui di nuovo personalità di spicco ragioneranno con i ragazzi, dibatteranno con i ragazzi, a partire dalla proiezione di due cortometraggi che proprio mettono in scena i giovani. Il percorso si concluderà la mattina del 14 dicembre al Teatro Alfieri di Torino con una tavola rotonda in cui personalità di spicco impegnate nella lotta contro la mafia si confronteranno sul fenomeno e in particolare sul ruolo giocato dai minori all'interno del drammatico contesto e sul diritto delle nuove generazioni a crescere in una società fondata su legalità e libertà. L'Osservatorio regionale sull'usura vuole interessarsi e sensibilizzare i giovani nei confronti della mafia e dell'usura stessa. Ricordo che la nostra regione Piemonte purtroppo è coinvolta come settima regione in questi fatti criminosi quindi ci sentiamo in dovere di lottare con i giovani affinché ci sia l'uso consapevole del denaro e per questo organizziamo e stimoliamo cicli di lezioni nelle scuole superiori, azioni concrete quali il microcredito e convegni per sensibilizzare i giovani su questo pesante fenomeno.